Senatore Stucchi, che cosa chiedete in questa interrogazione? Chiediamo sostanzialmente che ci sia un presidio del territorio adeguato, fornendo più uomini per le forze dell'ordine, fornendo più mezzi, più strutture, quelle dotazioni economiche necessarie per garantire la sicurezza ai cittadini in un territorio che ha sempre pagato molto per quanto riguarda la contribuzione alle casse di questo Paese e che ha ricevuto poco in termini di controllo e di spesa per quanto riguarda la sicurezza. Oggi con la situazione di crisi, ma soprattutto con un fenomeno di immigrazione molto elevato nelle nostre zone e praticamente fuori controllo perché il Governo dà dei messaggi sbagliati, è necessario intervenire per controllare in modo serio questo territorio che ahimè è provato da fatti così drammatici. Tutta la provincia è scioccata da questo fatto che è avvenuto? Sì, tutto il Paese, tutta la provincia, tutta la regione, sicuramente sono dei fatti che devastano le comunità e che ci rendono consapevoli del fatto che lasciare che l'immigrazione si autogestisca e si autoregolamenti è impensabile. Bisogna intervenire con giusti provvedimenti rigidi che permettano di avere delle risposte positive in termini di sicurezza.